I survoli della pattuglia acrobatica nazionale, comunemente conosciuta come frecce e tricolori, impreziosiranno l'importante cerimonia del giuramento solenne degli allievi volontari in ferma prefissata di un anno dell'Aeronautica Militare. Fissato per il prossimo 29 giugno a Taranto, si svolgerà in centro città sulla bellissima rotonda situata di fronte al monumentale Palazzo del Governo, una insolita ma significativa cornice che evidenzia la collaborazione tra aeronautica militare e le istituzioni del territorio, con il profondo legame che esiste da quasi 100 anni tra il capoluogo ionico e l'arma azzurra, arma che si rinnova dal primo giugno da Svetam e diventata Svam, con novità anche per le articolazioni, riviste, non solo un make-up ha spiegato il colonnello Dezi però. Nascono infatti le sezioni obiettivi e attività e poi i nuclei micro e macro progettazione didattica. L'importante momento verrà preceduto da una settimana di eventi che Canale 85, Antenna Sud e il periodico Loionio seguiranno con particolare attenzione documentando tutti i dietro le quinte. È una bella soddisfazione comandante, immaginiamo, anche perché quel giorno sarà anche quello del passaggio di testimone al suo successore. Sì è così, una giornata veramente ricca di impegni, ovviamente quello più importante, quello più sacro è il giuramento di fedeltà dei volontari alla patria, poi questa cerimonia sarà impreziosita, come detto, dai sorvoli delle frecce tricolori. In più a margine ci sarà anche il cambio di comando e cederò, come detto, il comando al colonnello Capasso. Vogliamo fare un dono alla città per ringraziarla della ospitalità. Noi rafforziamo i servizi dell'AMAT in previsione dell'incremento degli utilizzi, ma necessariamente molte strade verranno chiuse per motivi di sicurezza. È una forma di responsabilità della città che da sempre aspira a diventare città turistica. Grazie. 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 Grazie.